Eh, perché ho un vento più bello, io ho avuto da quando mi hanno fatto pensare, è venuto alla Calabria e mi ha detto, finalmente è lo stretto che unisce, non è la Roma del comandante. Mi devi dire al tuo amico che questo è il fatto. Non lo testo. Non lo faremo, 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 non lo faremo. Non lo faremo, 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 non lo faremo. Non lo faremo, non lo faremo, non lo faremo. Buonasera, grazie per la vostra partecipazione. Ringrazio la Polizia e il Sia Scaffidi per la sua contente collaborazione per presentare questo libro, Come mangia, come parli. Ringrazio la dirigente dell'Istituto Comprensivo Falvo d'Acquisto, Giovanna Messina. Grazie a tutti i partecipanti di questa posta, è arrivato in questo momento pure un altro dirigente, Angelo Cavallaro. e per questo nuovo evento, per quanto riguarda l'Istituto Comprensivo Falvo d'Acquisto, per quanto riguarda l'Istituto Comprensivo Falvo d'Acquisto, oggi vorrei ringraziare anche il Presidente regionale, dove do la parola per due minutini, il Presidente per la sua collaborazione e partiamo con il Signor Contardo. Allora, grazie, non si dice troppe volte grazie, perché poi gli ringraziamenti vi faremo soltanto se ci è piaciuto il vostro intervento. Questa, diciamo, in Sicilia, potrei dire, è l'unica presentazione che, almeno fino adesso, la prima, quindi con orgoglio la prima, Cinzia, ce la dedica a quest'area dello stretto, quest'area dello stretto, perché intanto abbiamo ospiti graditissimi, i nostri amici di Slow Food di Reggio Calabria, che ringraziamo molto di essere presenti e questo, come a dire, lo stretto, come noi usiamo dire, unisce, lo stretto diventa molto ponte di cultura, l'unico ponte possibile che Slow Food già ha lanciato da un pezzo. Che dire, la presentazione di un libro è sempre un momento che può prendere degli aspetti o molto così, diciamo, non molto vivaci, ma io so e conosco i miei relatori e so che invece sarà molto interessante perché l'argomento è veramente molto importante. non rubo altro minuto, spero che anche chi ci segue in streaming possa godere di questa nostra, diciamo, serata e ci siamo anche con quest'altra, questa è Green Report, Green Report, quindi siamo ripresi dappertutto e attenzione a quello che diciamo perché avremo modo poi di risentirci per bene. Grazie e la parola prego a voi. Allora, ringrazio, ringrazio tutti intanto, non si dice grazie, ma è giusto ringraziare gli intervenuti. Vorrei un attimino presentare il libro di Cinzia Scaffidi che io ho letto in questo periodo, in questo periodo, diciamo, di vacanze e mi è sembrato molto interessante perché pur essendo un libro che ha, presenta delle parole, quindi voi vedrete su questo testo semplicemente delle parole in ordine alfabetico, ma non è così perché dietro ogni parola che viene iscritta su questo libro, io ho letto non solo la definizione, ma si va al di là della definizione. Per mio, diciamo, background culturale da sempre mi dedico sia all'alimentazione, si vede, pure, che comunque ho fatto anche un dottorato in chimica e sicurezza gli alimenti, lavoravo anche nel settore alimentare, quindi è interessante perché ho rivisto tutto ciò che avevo già rielaborato e tutte le pubblicazioni che abbiamo fatto nel settore dell'alimentazione. Quindi non è un testo soltanto di parole, ma dietro la parola c'è qualcos'altro, perché per esempio anche sulla parola etichetta ho rivisto proprio tutta la filiera alimentare, c'è tutto ciò che deve essere scritto in un'etichetta, non è quindi soltanto l'etichetta qualcosa in cui c'è scritto semplicemente l'ingrediente, ma dietro l'etichetta c'è anche quello che riguarda tutto da dove proviene anche l'alimento. Poi ho visto ci dovrebbe essere, anche se c'è, come dice Cinzia, c'è anche la grande industria che a volte non permette che ci sia effettivamente scritto ciò che l'alimento contiene. E poi l'altra cosa che a me è sembrata molto interessante, a parte la prefazione di Tullio De Mauro che dicevamo con Cinzia è veramente qualcosa di interessante e importante perché vengono fuori proprio questa descrizione delle parole che lei inserisce nel libro che non sono solo parole ma c'è un filo conduttore. Anche perché lei ha fatto di questo libro ogni parola che c'è inserita da cibo, orto, etichetta eccetera, c'è come una parola che viene poi scritta in grassetto, è come se tu cliccassi e su quello vengono fuori, c'è tutto un filo conduttore. Quindi tutto ciò, dico anche per esempio il concetto di orto di cui parlavamo, oppure il concetto di insetto, l'insetto che noi vediamo costantemente come qualcosa da debellare e invece non è così. Dietro la parola insetto c'è qualche cosa di più, cioè l'insetto che può essere utilizzato sia per l'alimentazione, quindi tutto ciò mi è sembrato molto e molto interessante. Secondo me è un libro che dovrebbero leggere in molti perché dovrebbero leggere anche i ragazzi. Da noi, noi facciamo nella mia scuola anche alimentazione, abbiamo anche un orto didattico, quindi questo potrebbe essere interessante anche per i ragazzi, per far capire loro quanto importante è il vero cibo, cioè qualche cosa che ci produca benessere, come dicevamo, perché poi andate a leggere anche sulla parola benessere c'è il bene di essere e quindi tutto ciò è interessante perché completa quella che è la nostra visione di alimento, alimentazione e trasformazione. Che dire di altro? Avevamo un attimino parlato anche della parola grasso perché le ho detto sorridendo, mi sembra più vicina a me, di tanto in tanto mia figlia mi dice mamma i cani, c'è un cane di una mia cugina che di solito mi viene addosso dici perché ti scambia per un prosciutto. Quindi interessante questo fatto del grassi che noi dobbiamo andare a vedere e anche i nostri ragazzi dobbiamo insegnare quanto i grassi siano di diverso tipo e quindi ecco perché vedo questo libro molto adatto anche per gli insegnanti e per gli alunni che fanno scienza e l'alimentazione, che fanno alimentazione perché il primo momento, il momento più importante è dare ai nostri figli e anche ai nostri studenti far capire loro quanto è importante andare a vedere qual è il cibo vero, cioè quello che possiamo veramente dire che non è un cirbo da fast food ma qualcos'altro. Quindi che è bene anche mangiarsi il panino al McDonald per non fare pubblicità, però è anche vero che bisogna conoscere l'importanza di andare ad alimentarsi in maniera corretta. Vorrei un attimino anche prendere una parte di questo libro, leggerla con voi perché una cosa che mi è sembrata anche importante è la frase di una parte del libro dove si parla di Robert Kennedy e come vedeva il PIL, cioè cosa significa il PIL che comprende, cosa comprende il PIL? Il PIL lo comprende anche l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine di fine settimana. Cosa significa? Perché oggi si bada molto al prodotto interno lord, quindi alla crescita. Ma che tipo di crescita andiamo incontro? Qual è il tipo di crescita? Una crescita soltanto dal punto di vista della quantità ma anche della qualità. Già Robert Kennedy ne parlava, anche per questo poi per le sue idee fu ucciso perché aveva delle idee che sono veramente, come posso dire, all'avanguardia rispetto ai tempi. Grazie, mi sedo ora e posso parlare. Grazie, questo libro in realtà nasce dal desiderio di fare tante cose allo stesso tempo e la prima cosa era quella di evidenziare le relazioni che ci sono tra i tanti argomenti che corrispondono all'idea di occuparsi di cibo. Io lavoro da 22 anni in un'associazione come Slow Food e quando mi chiedono che lavoro fai controdomando quanto tempo abbiamo perché raccontare che lavoro faccio è complicato. Dire che mi occupo di cibo è troppo poco, è troppo vago e nella mente di chi mi ascolta a seconda delle sue retroterra fa venire in mente delle cose diverse. Potrei essere la camerina di un ristorante piuttosto che un cuoco, piuttosto che un dietologo perché ognuno di noi fa riferire la parola cibo ad un suo vissuto e al pezzo che conosce. In realtà parlare di cibo è una cosa molto complessa e io mi sono anche un po' allenata perché insegnando in un'università di scienze gastronomiche tenendo un corso che si chiama Interdisciplinarità della gastronomia ho avuto modo di fare un po' di training su questa cosa qua. Allora il senso di questo libro era innanzitutto provare a fare un discorso, un discorso gastronomico insomma per citare, per parafrasare il discorso amoroso di Barth nel senso di provare a vedere da che cosa è composto il nostro discorso gastronomico. Il nostro discorso gastronomico è composto non solo da quello che diciamo ma anche dalle parole che usiamo e poi comunque dal modo in cui ci comportiamo. Quindi è vero che questo non è un normale vocabolario, non è un elenco di parole con la loro definizione, piuttosto è un elenco di parole con la loro storia, con la loro storia recente diciamo così, la loro storia contemporanea, quella degli ultimi 50-60 anni che si risolve nell'essere la nostra storia degli ultimi 50-60 anni perché se le parole sono cambiate di senso o di segno è perché sono cambiate delle cose nella nostra vita e quindi quelle parole lì noi le viviamo e le usiamo oggi in un modo diverso da come facevamo 50 anni fa. Esempi banali, 50 anni fa dire che una azienda, che una marca si poteva trovare in tutti i supermercati era un complimento per quell'azienda lì perché voleva dire che aveva raggiunto un bel livello di distribuzione e di visibilità. Oggi quando diciamo che una marca è una marca da supermercato stiamo dicendo un'altra cosa, stiamo dicendo esattamente il contrario, stiamo mettendo la confronto con qualcosa che invece consideriamo di migliore qualità. Lo stesso vocabolo grasso di cui parlava prima la professoressa ha una storia molto simile. 50 anni fa la mamma che girava col suo bambino e incontrava la vecchietta che gli diceva come bellino questo bimbo grassottello si sentiva contenta che gli dicessero questa cosa qua. Adesso un po' si offende, un po' si preoccupa perché la mamma che si sente dire che il suo bimbo è grassottello nega, cioè non è che dice aiuto come faccio, normalmente se ci sono pediatri in ascolto, normalmente negano, piuttosto negano l'evidenza, dicono no ma sta bene, non è grassottello che sta bene, l'altro cerca di dirgli guarda che sarebbe meglio con qualche dio di me, ma in generale tendono a negarlo e lo negano a se stessi prima che al pediatra, non lo vedono questo sovrappeso le mamme e i bambini fino a quando poi magari non è anche un po' più problematico di tanto andarlo a invertire di tendenza. Parallelamente il termine magro è passato dall'essere sempre in accompagnamento a visioni abbastanza tristanzuone, anche nei nostri modi di dire, le magre figure, i magri guadagni, i magri raccolti, eccetera, eccetera, è diventato un termine che si è molto nobilitato. Oggi dire magro significa quasi immediatamente dire sano, dire attivo, dire colto qualche volta perché tutti i problemi di sovrappeso nelle grandi città, nelle società molto sviluppate si hanno nelle fasce della popolazione un pochino più deboli dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, mentre nelle famiglie in cui padre e madre sono molto scolarizzati e hanno abbastanza soldi, i figli possono anche mangiare eventualmente tutte le porcherie del mondo, ma in generale non succede, mangiano un po' meglio, ma poi tra corsi di tennis e biciclette e cose varie quello che mangiano lo smantiscono. Allora, il punto è che oggi dire magro è invece una cosa positiva e si comincia anche a sentire nel linguaggio parlato, dire quando qualcuno comincia, quando fanno dei complimenti per un discorso e ti dicono, ah no, un bel discorso asciutto, un bel discorso, ecco questa cosa qua che io osservo per un po' perché ho questa piccola nevrosi di stare sempre a sindacare sulle parole, di osservare come parlo io, come parlano gli altri, come si differenziano nei vari dialetti o nelle varie lingue o come si accomunano alcune definizioni, porta esattamente a questo, che il modo in cui la storia delle parole, il modo in cui le parole evolvono, in realtà racconta un'altra storia che è la nostra e noi quindi passiamo dall'usare le parole per raccontare delle cose all'essere usati dalle parole che raccontano in realtà un pezzettino della nostra storia, semplicemente con le loro evoluzioni. Questo gioco di ipertesto, di rimandi, da una parola all'altra che per qualche errore tipografico non ha funzionato perfettamente ma insomma funziona quasi sempre, è un altro modo intanto di omaggiare una cultura parallela che viene sempre un po' denigrata che è la cultura del digitale, non per niente si cita come una delle pochissime fonti che vengono citate in questo libro è Wikipedia perché comunque si impara molto anche da quel tipo di cultura lì e soprattutto quel tipo di cultura lì ci aiuta a fare connessioni, quel tipo di strumento culturale ci facilita quando dobbiamo fare delle connessioni perché non dobbiamo aspettare, non dobbiamo imparare una cosa per volta, possiamo impararne tante. Quando vedo che qua l'età media grosso modo era mia con qualche eccezione, quando noi eravamo piccoli e a scuola qualcuno ci faceva un complimento ci diceva ah brava sei, hai fatto tanti collegamenti perché questa cosa di fare i collegamenti non te la insegnavano perché se poi la facevi da sola ti facevano i complimenti. Oggi magari anche con il nuovo ordinamento l'università imparano a fare tanti collegamenti superficiali e poi appena cerchi di andare un po' a fondo su un argomento si perdono, ecco magari se riusciamo a trovare una via di mezzo tra queste due cose però la questione di imparare a fare tanti collegamenti la dobbiamo e è una cosa bella che è funzionato proprio perché gli strumenti della rete hanno molto facilitato questo tipo di abilità. Poi si rimane sempre un po' in superficie ma vediamo di approfondire, c'è tempo poi per approfondire. In un argomento come quello dell'alimentazione del cibo essere in grado di vedere le connessioni, di vedere quelle che Fridge of Capra già negli anni 70 chiamava le connessioni nascoste è fondamentale ed è alla base dell'idea di sostenibilità perché se no di che stiamo a parlare, se non ci rendiamo conto che un cibo influisce sulle questioni economiche, sulle questioni di salute, sulle questioni ambientali, su quelle sociali, su quelle culturali, su quelle dell'educazione, su quelle del presidio del territorio e possiamo metterne in campo ancora altre, se noi ce ne ricordiamo sempre solo un pezzo per volta considereremo l'idea di sostenibilità sempre soltanto un pezzo per volta e quindi ce la perdiamo la sostenibilità perché se ci concentriamo su quella economica sicuramente perderemo di vista quella ambientale e quindi dovremo imparare a non dare precedenza a nessuna delle tante ma a pretenderle tutte insieme. In più l'ultimo forse obiettivo che avevo quando ho cominciato a pensare di scrivere questo libro è stato proprio quello di provare a creare uno strumento tutto sommato semplice, tutto sommato piano, nel senso che è un libro scritto senza particolari pretese di linguaggi accademici, è un libro come mi hanno fatto notare in altre presentazioni, è uno dei pochi saggi senza bibliografia ma è evoluta, non c'è la bibliografia perché la bibliografia stressa sempre un po', ci sono i testi citati durante il discorso ma è proprio questa voglia di imitare un po' le chiacchiere, le chiacchiere colte ovviamente però una chiacchiera da bar su un argomento interessante, se dici un libro chiaramente qui scrivi anche l'anno di pubblicazione e il titolo però senza poi fare grandi strutture per non intimidire più di tanto, avremmo potuto fare, lo faremo in una prossima edizione degli indici analitici, questo sì perché i personaggi citati, i tanti argomenti che vengono citati dentro le voci poi non si sa dove andarli a cercare se non hanno la voce nel sommario però questo elemento qua è proprio la volontà di provare a mettere a disposizione di chi vuole un po' orizzontarsi in una mappa oggettivamente ricca che abbiamo oggi davanti agli occhi fare proprio l'elenco delle questioni aperte, magari non tutte però 100 sono già abbastanza quando ho iniziato pensavo di farne 21, cioè di farne uno per ogni lettera alfabetica poi non ci sono stata e allora ho cominciato ad aggiungere e aggiungere fino a quando mi sono resa conto che stavo esagerando e ho cominciato a togliere. Queste 100, le finaliste, sono comunque una mappa relativamente completa di quello che è l'elenco delle questioni aperte quando parliamo di cibo. Tra l'altro mi rendo conto, vedendo cosa esce in questo periodo qua, che sta diventando un po' un'esigenza anche di altri, c'è un magnifico saggio di Tobago Montanari che ha come oggetto il patrimonio artistico e culturale italiano, la tutela del patrimonio artistico e culturale italiano e anche lì procede per voci in ordine alfabetico, c'è Guccini che ha fatto un libro anche lui in questo modo qua, è come se tutti quanti in questo momento in cui sappiamo che i saggi non li legge quasi più nessuno, cerchiamo di entrare con dolcezza e dire guarda, non è proprio un saggio vero, è solo un elenco di cose, stai tranquillo te lo puoi leggere. E forse può essere anche alla portata di uno studente dei superiori, direi magari non tutto, non sempre, però con un accompagnamento di insegnanti un po' attenti potrebbe anche essere interessante per un ragazzo adolescente, magari non alle medie persone. No, ma anche l'interconnessione, scusate, anche il fatto che è comunque strutturato in maniera che ci siano delle interconnessioni tra una parola e l'altra, cioè quel fatto proprio di concettualizzare, però andare al dilaccio del concetto semplice e quindi che c'è questo filo conduttore che connette una parola all'altra, questo fa sì che comunque sia effettivamente un saggio importante, non è soltanto un elenco di parole, ecco, perché questo tipo di struttura a me è piaciuto, cioè il fatto che comunque siano connesse le unie alle altre, si parla di cibo ma poi si va a qualcosa altro che completa anche la parola cibo. Sì, di fatto è un libro con una tesi, nel senso che non è semplicemente una descrizione ma è un libro anche un po' patrugiano, cioè non è un libro che si limita a dire ci sono diverse opinioni, scegliete la vostra. Io la mia, ovviamente la dico, e la sostanza di questo libro è che questo grande cambio di paradigma di cui tutti quanti ormai sentiamo parlare da anni, che dobbiamo cambiare paradigmi e non sempre capiamo bene che cosa ci stanno dicendo, in realtà quando ci dicono che dobbiamo cambiare paradigmi ci dicono che dobbiamo trovare un modo diverso di fare le cose, che le cose come le abbiamo fatte fino adesso creano un sacco di guai, che l'economia come l'abbiamo fatta fino adesso ha creato un sacco di guai, che la produzione alimentare come predominante, come l'abbiamo fatta finora, ha creato un sacco di problemi. Allora, questo cambio di paradigmi che in economia si chiama green economy e che in altre situazioni si potrà trovare con altre definizioni, in questo ambito qua probabilmente sta nel fatto che bisogna shiftare, che non si dice in italiano, ma insomma che bisogna passare da un paradigma riferito all'individuo ad un paradigma riferito alla comunità, che detto così ci vogliono 5 secondi ed è fantastico, sembra che funzioni tutto, in realtà questa cosa qua sarebbe una leva sovvenziva straordinaria che in questa città peraltro sperimentate da quando avete questo nuovo sindaco, c'è l'idea di avere come obiettivo e come punto di arrivo non il proprio tornaconto, il proprio interesse, il proprio profitto, ma il benessere della propria comunità. Questo non vuol dire smettere di fare il proprio lavoro, smettere di fare reddito e diventare tutti dei benefattori scalzi, però significa che l'elemento per cui tu con la comunità socializzi soltanto le negatività e invece tu ti tieni tutti i profitti non può funzionare perché non sono sbagliato eticamente perché non funziona così, perché ce l'ha insegnato Kant che cosa funziona eticamente e ci ha detto prova a immaginare che quello che stai per fare lo facciano tutti, se ti piace l'idea allora quella è un'azione etica, se invece va bene sono fatto che lo stai facendo solo tu c'è qualcosa che non funziona, è semplice come regola e l'ha detta quasi 300 anni fa, però ancora non c'è entrata nella testa. Allora, questo cambio di paradigma è dire benissimo, io faccio cemento, faccio mattoni, faccio vestiti, faccio prodotti agroalimentari, il risultato deve essere che la mia comunità sta meglio. Io li vendo per carità, però il risultato di tutta questa cosa qua è che io non creo danno a nessuno. Se voi vi immaginate una cosa del genere applicata alla vostra vita quotidiana e a quella di tutti quelli che conoscete, vi accorgete che immediatamente si hanno dei risultati straordinari, per esempio tutti pagano le tasse, per dirne una, una piccola, ad esempio tutti quanti pagano le tasse e questo potrebbe già essere un bel ragionamento in termini di comunità, perché prima o poi se tutti quanti pagano le tasse tutti quanti ne pagano meno. Per esempio, io non metto sul mercato cibi il cui contenuto calorico è bassissimo, ma il cui contenuto in grassi, in zuccheri è altissimo, perché quel cibo lì non è un cibo che nutre. E se il cibo non nutre, come fa a essere cibo? E allora di nuovo torniamo alle parole. Torniamo alle parole e vediamo come devono essere. Che cosa fa il cibo di mestiere? Nutre. Se il cibo è male, non può essere cibo. Se il cibo crea fame da qualche altra parte, in posti molto lontani da noi, di nuovo quella roba lì non deve essere cibo, perché sennò nutrirebbe e creerebbe sazietà e non fame. E via di questo passo. Se noi proviamo semplicemente a, provatelo anche nelle situazioni, questo è un giochino abbastanza divertente, quando vi trovate in dibattiti, discussioni un po' accese, impuntatevi su una parola e cominciate a dire, no, non ho capito, ma quella parola lì significa un'altra cosa, ormai l'hai detta qua? E rispiegamelo di nuovo. Ecco, questo rispiegamelo di nuovo, questo mettere un granellino di sabbia in quegli ingranaggi che partono, che tutti danno per scontato, che devono andare velocissimi, fa un pochino di rivoluzione e abbiamo bisogno tutti quanti di un pochino di rivoluzione. Questo è un libro tutto sommato, appunto, abbastanza diretto su determinante cose, abbastanza chiaro anche nelle posizioni, si può essere d'accordo o non d'accordo. Un giornalista con cui ho presentato questo libro a Torino qualche giorno fa diceva la cosa straordinaria di questo libro che mi ha trovato d'accordo su tutto e potenzialmente in disaccordo su tutto e quindi l'ho letto tutto dall'inizio alla fine perché volevo riuscire a capire come funzionava questo meccanismo che mi convinceva e allo stesso tempo mi faceva venire voglia di dire il contrario da qualche parte. Ecco, era una voglia di provare a dire in maniera il più ordinata possibile, questo non è un campo ordinato, non è quello dell'alimentazione, del cibo, della produzione, delle relazioni di mercato, della salute pubblica eccetera eccetera, è difficile metterle insieme in, non so, 190 pagine, quante sono queste, non ho idea, però perché in sé non è ordinato perché non è stabile. Questa è una materia in movimento, costante, probabilmente se io riscrivessi questo libro tra dieci anni, esattamente finirei per scrivere delle cose molto diverse, però è come una fotografia di un movimento e quindi lo vediamo il movimento, è in corso e però noi ci siamo in mezzo e in questi 50 anni siamo passati da una situazione molto più semplice in cui avevamo meno opzioni, in cui eravamo meno bombardati dal mercato e dall'industria, in cui però ne sapevamo molto di più. i nostri nonni erano molto più competenti di noi, perlomeno sul cibo dei loro territori ovviamente, magari non sapevano cos'era il sushi, però sapevano come riconoscere un olio di qualità da uno che non era abbastanza buono, sapevano qual era la stagione quantomeno in cui bisognava raccogliere le olive. Ecco, i raga, i ventenni di oggi, anche dei territori dove si produce olio, non necessariamente sanno dire quando fioriscono gli olivi, quando si devono raccogliere, quali sono gli accorgimenti che bisogna avere per fare un olio di qualità. sanno un sacco di cose in più, sanno usare i computer, sanno le lingue straniere che magari un tempo si sapevano con meno facilità, però sanno un sacco di cose orientate poi al profitto e alla professionalità, ma sanno meno cose orientate al proprio benessere e a quello della propria comunità. Siamo un po' sguarniti, quindi la nostra cultura alimentare si è un po' indebolita, un po' sgretolata, le giovani madri o in generale le giovani donne non hanno una relazione serena con il cibo. Se oggi ci regalano un iPad nel giro di due giorni, due ore sappiamo come deve funzionare, se ci regalano uno scorfano ci viene l'orticaria, non sappiamo da che parte girarlo, come lo dobbiamo guardare, come lo dobbiamo pulire, come lo dobbiamo cucinare. Ecco, la nostra capacità manuale e le nostre competenze culturali sono andate un po' erodendosi. Ci sarà un'app che ci insegna come farlo, certo, possiamo sempre confidare nelle app, questo è vero. E infatti la quantità e la diversificazione degli strumenti per ricostruire quella cultura del cibo è straordinaria e io ritengo che non ci sia un bisogno di fare una graduatoria di novità tra gli strumenti e che l'enciclopedia del Guarnaschelli-Gotti ha la stessa dignità didattica di Masterchef, se uno lo guarda con attenzione e sceglie quello che deve imparare, è chiaro che non sceglie, impara a maltrattare i cuochi, ma magari impara a vedere come si affetta una cipolla. Però, ecco, quello che è successo in questi anni è che ci siamo molto dispersi e questa cosa qua non è successa per caso e soprattutto non è senza conseguenze, questa è una cosa molto comoda. Il mercato alimentare della grande industria, della grande distribuzione ha bisogno di andare in fretta e i consumatori, che è un'altra voce messa in discussione in questo libro, però i cittadini molto competenti non fanno andare molto in fretta al mercato perché fanno domande, perché vogliono sapere, perché scelgono, perché vogliono essere forniti degli strumenti che possano consentire di scegliere, vedi le etichette, e quindi quel mercato lì che diventava sempre così forte, così importante, ha anche lavorato perché i consumatori dicessero, vabbè, lascia stare, io adesso imparo come funziona il motore della Ferrari e tra due giorni, te lo so dire, tu intanto decidi per me sul cibo. E c'è stato un lavoro anche culturale, psicologico su questa cosa, pensate a quante volte nella pubblicità si usa la parola fiducia o si ricorre all'idea di fiducia. Il messaggio che è stato dato al consumatore è fidati del marchio, lascia stare quello che sai, quello che non sai, c'è un marchio che ti dà sicurezza e tu di questo non metterai più in dubbio niente, non starai a vedere cosa c'è in quelle sottilette o in quel tipo di salume, lascia stare, ci pensiamo noi. Questa è una delega in bianco che noi firmiamo e però le deleghe sono uno strumento della democrazia. E allora come si passa dal galvanino alla democrazia? Si passa perché se io ti do una delega per produrre il mio cibo, così come quando te la do per governare il mio paese, io devo sapere come fare a rinnovartela quella delega. Quindi io devo essere informato su che cosa fai tu. Per quale motivo in tutti i paesi democratici è sempre centrale la questione della libera informazione. Perché la libera informazione è lo strumento del ritorno, l'andata e la delega e il ritorno e il controllo. Se io non ce l'ho, quello strumento lì, se quella libera informazione libera non è, io come faccio a ridecidere la volta dopo? Come faccio a sapere che cosa te ne sei fatto della mia delega? Allora, a quel punto lì, adesso facciamo finta che siamo in un paese, quando si parla di governi, quegli strumenti sono i giornali, sono le informazioni della quotidianità e della quotidiana informazione, nel cibo non possono che essere le etichette, gli strumenti della democrazia. Però le etichette non possono dire che per fare il formaggio ci vuole il latte, il caglio e il sale, perché quello già lo sappiamo, già è come se io girassi questo libro qua e vedo scritto invece della storia del libro che è fatto con l'inchiostro, la carta e la colla. Non è quello che voglio sapere, quello lo vedo, è fatto così, lo so, che i libri sono fatti con quello. Voglio sapere la storia. E allora la storia di un formaggio sta nel latte, in cosa hanno mangiato le vacche, in che tipo di razza sono quelle vacche lì, di quale zona, se sono autotone, se non lo sono, come sono state allevate, quanto sono state rispettate, perché i diritti non sono soltanto i nostri, sono anche quelli degli altri esseri senzienti. E a quel punto lì io decido se tutta quella roba lì mi piace. E quindi ti rinnovo la delega, che vuol dire che tiro fuori degli altri soldi e lo riacquisto. E' quello il voto, è quello il momento in cui noi esercitiamo la nostra democrazia del cibo, nel momento in cui con il nostro denaro appoggiamo un sistema piuttosto che un altro. e altrimenti non lo possiamo fare, altrimenti andiamo avanti senza sapere e poco per volta ci consegniamo un po' ad un modello unico di consumo, di produzione, di agricoltura e di visione culturale. Però i modelli unici si chiamano regimi e quando c'è un regime ci vuole una resistenza. e la resistenza si fa anche attraverso questi tipi di riflessione qua. Volevo un attimino anche, se voi volete porre alcune domande, ma una di queste invece riguarda le politiche alimentari, è un'altra parola che io ho letto, ora abbiamo un po' discusso, perché le nostre politiche alimentari ad oggi credo che ci siano delle enormi voragini, soprattutto in Italia. tu dicevi, scusa ti do del tu perché io mi chiedo, e quindi le politiche alimentari in Italia in effetti il Ministero dell'Agricoltura comprende anche le politiche alimentari, tu dicevi che non è un, diciamo che non viene trattata completamente questa parte, cioè un discorso che in Italia non viene preso in giusta considerazione. Sì, per una volta non siamo un'eccezione, nel senso che le politiche alimentari in questo momento sono più un'idea astratta che una cosa realmente esistente. Noi abbiamo un Ministero che si chiama effettivamente il Ministero dell'Agricoltura, il nome completo è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, però le politiche alimentari che ci piacerebbero a noi sono delle altre cose e cioè sarebbero delle politiche di nuovo connesse in cui noi abbiamo pubblicato qualche anno, due anni fa un documento congressuale per il nostro congresso internazionale che c'è stato a ottobre del 2012 che si intitolava la centralità del cibo. Allora, se noi riuscissimo a mettere al centro dell'attenzione della politica il cibo otterremmo immediatamente una politica fatta per tutti, perché se tu fai politica per tutti quelli che mangiano ti sei messo al riparo da tutte le categorie, non stai parlando solo con i tassisti, solo con i farmacisti, parli con tutti. A quel punto lì, se il cibo è al centro e se tutti i Ministeri si rendono conto che il cibo è al centro di tutto il loro lavoro, in qualche modo che il cibo è connesso a tutto il loro lavoro, si riuscirebbero ad avere delle politiche coerenti, anche lì parola apparentemente innocua, però avere delle politiche coerenti cosa vuol dire? Un paio di anni fa, grossomodo, a un certo punto in Italia si è verificata la seguente situazione, quattro Ministeri in contemporanea hanno fatto a due a due delle robe che erano esattamente il contrario l'una dell'altra, e cioè il Ministero delle politiche produttive ha recepito una normativa europea che sganciava la necessità per le bibite, per i soft drinks sostanzialmente, fino a quel momento c'era stato un 12% obbligatorio minimo di succo d'arancia, l'hanno tolta questo obbligo, per cui quelle bibite possono da allora essere acqua, coloranti e zucchero, chiamarsi orange, non so cosa, e va bene lo stesso, i bambini se le possono bere serenamente. Ora, per carità, era una normativa europea che noi dovevamo recepire, non è che non possiamo, quando l'Europa ci lo chiede ci pieghiamo, ma qualche volta possiamo anche dire, scusate un secondo, come abbiamo detto, perlomeno protestiamo, come sul cioccolato l'avremmo fatto, no, lì non c'è stata proprio neanche l'ombra di una protesta. Nelle stesse settimane il Ministero per la Salute ha varato un programma in tutte le scuole di ogni ordine grado per incentivare i ragazzi a mangiare più frutta, esattamente nello stesso periodo. Questi qui mettevano i dispenser con le mele che uscivano dalle macchinette e intanto appena uscivano da scuola potevano bere mezzo litro di una roba che era sostanzialmente acqua, zucchero e chimica e andava bene lo stesso. Il cittadino bambino era sempre lui, quello che a scuola veniva tirato per la giacchetta dicendo no, mangia più frutta e fuori diceva no, ma non importa la frutta, fa lo stesso e questo era nello stesso momento. Sempre in quello stesso periodo il Ministero della Vivicoltura ha fatto partire una bellissima iniziativa che è ancora in piedi oggi che si chiama Rete Rurale Nazionale, dove la logica di fondo era lo sviluppo rurale, come si fa? Si fa ragionando di territori e quindi mettendo intorno a un tavolo tutta una rete nazionale di associazioni ambientaliste o dalla Lipu a Slow Food, passando per l'Egambiente WF e compagnia, più tutte le proloco, le comunità montane, insomma una roba anche capillare perché bisogna ragionare di sviluppo rurale in termini di territori e quindi di sviluppo rurale è sartorializzato, non c'è una ricetta di sviluppo rurale che vale nelle montagne dell'Aquila o a Rimini, ci deve essere un ragionamento di comprensione e adattamento dei progetti. In quello stesso momento si cancellava la geografia dalla maggior parte dei curriculum delle scuole dell'obbligo, quindi questi territori, non delle scuole dell'obbligo, scusate, delle scuole superiori e in particolare in alcune si riduceva soltanto, ma in indirizzi come il turistico, il professionale turistico, l'istituto navale si cancellava completamente la geografia dai curriculum scolastici, che era una pura follia che è stata un po' corretta dalla carrozza e non so se poi è stata adesso di nuovo rivista, però intanto mentre un ministero diceva che bisogna partire dai territori, conoscere le peculiarità, ragionare di che cosa sono le esigenze eccetera eccetera, anche in base all'aspetto fisico dei territori che cambia le loro possibilità produttive, intanto di là dicevano ma non studiate perché tanto basta il tomtom, questo era il senso che ci veniva trasmesso, che non c'è più bisogno di sapere dove è Berlino, c'è ancora qualcuno convinto che Berlino sia in mezzo alla Germania, per cui esattamente nel centro, da una parte c'era Berlino oeste, da un'oeste e questa era una cosa che già quando si studiava geografia facevano questi onori qui, figuratevi adesso. Ora, non può essere che la politica ragioni in questo modo qua, non può essere che ogni ministero ne faccia un pezzo senza parlarsi con gli altri e che nessuno si renda conto che è un prodotto di qualità, per arrivare dalla sua origine fino in tavola, sulla tavola di qualcuno, nel suo percorso, se è un prodotto di qualità, ha fatto dei servizi per ognuno di quei ministeri, ha fatto un servizio culturale mantenendo una comunità sul suo territorio, ha fatto un servizio di educazione tenendo insieme tutte delle competenze che altrimenti si sarebbero perse, ha fatto un servizio idrogeologico perché specialmente se sono territori di zone svantaggiate, chiamiamole così, se la gente non se ne va è meglio, ha fatto un servizio per la salute pubblica, ha fatto un servizio per l'acqua non inquinandola, ha fatto un servizio per il suolo non facendolo inaridire, ha fatto tutta una serie di cose che sono competenze del Ministero della Salute, del Ministero dell'Ambiente, del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Economia perché poi arriverà anche al mercato quella roba lì. Allora, se noi facessimo legare le nostre competenze dal cibo, riusciremo probabilmente ad avere una visione di comunità davvero un pochino più rispettosa del benessere e proveremo forse anche a dare un altro senso alla parola benessere che non può essere soltanto quello del reddito, della quantità di soldi che ognuno di noi sa fare, perché ormai ci misuriamo soltanto su quello, misuriamo la nostra qualità personale sul netto in busta paga e non può essere così, noi siamo molto di più del nostro netto in busta paga, siamo molto meglio, possiamo crescere in tanti modi che non prevedono necessariamente che qualcuno ci lasci le penne per esempio, cosa che invece ogni tanto è obbligatorio in questo sistema qua, noi in tante situazioni noi privilegiamo le nostre necessità, qualche volta non sapendo quanto danno facciamo e qualche volta pensando che in fondo non è affare nostro, se facciamo del danno è perché il sistema ci consente di farlo e buonanotte, allora viva il sistema, andiamo avanti così finché ci conviene, però se cominciassimo a ricordarci che il privilegio di essere nati in un posto che è questo, che è l'Europa, che è l'Italia, è un privilegio che non ci siamo guadagnati ma che è figlio del caso e che chi invece nasce in zone più povere non se l'è, non è una condanna che ha ricevuto per i suoi peccati ma è un altro caso e quindi parimenti ingiusti, forse potremmo riuscire a capire un pochino meglio quanti equilibri smuoviamo ogni volta che tiriamo fuori il portafoglio per fare la spesa. Per andare al supermercato. Vorrei un attimo anche sentire voi su qualche argomento, se qualche domanda, prego, qualche domanda che volete porre. Sostanzialmente penso anche a voce alta si sente, intanto complimenti, complimenti perché secondo me è certo quello, si apre un sipario diciamo su quegli scenari più cosmopoliti che potevamo affrontare perché ovviamente parlare di circo e parlare di mondo probabilmente fino a ora non ti vede nessuno, c'è questa voce che esce dal disegno. Sapevo che ci sono tutti questi. Pietro, buonasera. No, le dicevo, volevo fare intanto i complimenti perché affrontare un argomento di questa portata del cibo, un argomento da affrontare con coraggio, intanto complimenti perché è stata coraggiosa, coraggiosa perché anche il cibo visto in questo momento del nostro vissuto, ecco come ha detto lei, questo lo apprezzo moltissimo perché se ho capito bene lei ha collegato la terminologia in erenca al cibo in un momento storico. Questa secondo me è la chicca del libro e la chicca del libro perché ci fa riflettere cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo e cosa faremo, perché in un percorso diciamo storico che vi ha detto di 50 anni la nostra vita è cambiata tantissimo, evidentemente anche nei nostri stili di vita, nello stile di vita anche il cibo, la donna stava a casa e cucinava, ora noi donne corriamo a destra e a sinistra e gli uomini ci aiutano a cucinare, cioè il cibo lo viviamo sicuramente in un altro modo. Quindi è il momento giusto, è il momento giusto perché ci stiamo rendendo conto che il cibo, l'ambiente, la natura, il mondo da ora viviamo lo stiamo veramente trascurando e quindi stiamo trascurando il poter vivere in salute, stiamo trascurando di dare alle generazioni che verranno il benessere e la salute, quindi questo veramente apprezzo l'iniziativa, l'apprezzo perché va a cogliere un passaggio direi delicato e difficile da affrontare, difficile perché ogni termine visto oggi come era in passato e come oggi e come lo vedremo in futuro certamente ci può aiutare. Il titolo Mangia come parli mi fa pensare, e questo non so se l'autrice, quando noi facciamo un ragionamento, come io sono seduta a questo ragionando, facciamo un percorso, facciamo delle connesse alimentari, se noi preparando il cibo o prima di mangiare pensiamo a quello che stiamo facendo, perché non lo facciamo più, non lo facciamo più, ormai si va subito al supermercato, si compra di corsa, si butta in pentola e si serve la tavola, quindi Mangia come parli, complimenti, questo dovrebbe essere uno slogan, ingegnere cancellieri, carissimo rappresentante del slow food che abbiamo in questo, può fare lezioni di questo discorso, cioè se noi effettivamente da questo momento cominciamo a dire, Mangia come parli, quindi quando metto il soggetto, il verbo e l'azione e quindi il cibo lo vedo, sto mangiando il pane e lo guardo, però non lo metto in bocca e scappo perché devo andare a lavorare perché mi scudì il telefono, ma penso a questo pane dove l'ho comprato, come è stato prodotto, ecco in questo io ringrazio questa autrice che ho qui accanto a me, le faccio i complimenti e veramente spero che questo sia un viatico questo testo, un viatico, un messaggio che arrivi veramente a tutti quelli che vogliamo risvegliare l'opinione, l'opinione che poi lei ha parlato, si è allargata di politica, ha parlato del bene comune, si è allargata molto in questo senso e questo le fa onore perché fa vedere, intravedere quello che il cibo rappresenta per noi e per tutta la società, quindi questo veramente non permette e grazie per quello che ha prodotto. Vediamo un'ora di leggere. Bene, è importante ne incuriosire, no, la storia del titolo è carina perché in realtà il titolo non è mio, io avevo proposto mangiarsi le parole che però poi gli editori hanno, l'editore, hanno deciso che era troppo critico e non si sarebbe capito e questo mangi come parli straordinariamente funziona perché da un lato, come dire, ribalta un luogo comune, un proverbio molto noto, questo parla come mangi che viene usato per dire alle persone di essere autentiche, di non darsi delle ari eccetera eccetera e invece mettendolo sul mangia come parli forse si dà un po' per scontato che facciamo attenzione a come parliamo e io su questo non mi sento di metterci la mano se ne fuoco, però tendenzialmente dovrebbe essere così uno prima di parlare riflette e se magari lo facesse anche prima di mangiare giustamente potrebbe avere un senso. Quando abbiamo presentato questo libro a Milano c'era Stefano Bartezaghi che evidentemente di parole se ne intende e che diceva che quando noi ci occupiamo di cibo, quando programmiamo un pasto stiamo molto attenti al registro e quindi se siamo da soli o se siamo con qualcuno, con un amico, con un fidanzato, con un capufficio, cambiamo anche il tipo di pasto, cambiamo come apparecchiamo eccetera eccetera, mentre lui lamentava il fatto che invece i registri linguistici ormai si sono perduti, per cui ci sono parlamentari che parlano come facchini e che ne vanno anche fieri e ho tutto rispetto per i facchini per altri, però questo è un retaggio familiare per cui il termine facchino diventava l'emblema del tutto popolare e invece ci sono appunto, ormai si va un po' fieri del fatto di non distinguere mai un registro. Ecco l'idea che invece dando credito al fatto che prima di parlare ragioniamo provare a pensare che il modo in cui parliamo di cibo oggi è molto uno specchio del modo in cui mangiamo e questo era il senso del titolo messo qua, poi si arricchisce ogni volta di nuove interpretazioni, però è bello. Però è proprio il messaggio di questo libro qui è questo, occhio perché il modo in cui usiamo le parole del cibo corrisponde abbastanza al modo in cui usiamo il cibo e quindi conviene insomma ragionarci un pochino di più. Questo è la postazione di chi deve fare gli interventi, allora sposto un po' l'attenzione sull'ambito siciliano visto che mi occuperò, mi occupo di questo e anche calandrese perché il concetto è molto simile, noi siamo delle regioni molto fortunate perché se nell'accezione comune noi abbiamo l'idea che queste siano regioni svantaggiate, questo ci ha portato ad avere dei vantaggi, mentre nel nord Italia e in buona parte d'Europa quella evoluta, parliamo industrialmente, si è persa da quasi un secolo tutta la cultura contadina relativa al cibo, da noi si è persa da poco tempo, si sta perdendo recentemente, noi abbiamo un vantaggio di una cinquantina d'anni di retrogradezza rispetto alle parti evolute, questa è una chiave di lettura che più minoltro in situazioni di quasi isolamento o di svantaggio orografico, penso ai Nebrodi, non so se conosci, Nebrodi, che sono così preziosi, addicchi di biodiversità proprio perché sono rimaste un po' lontano da questi circuiti, da questi flussi, nel libro spesso si parla di come si è evoluto il termine negli ultimi cinquant'anni, noi abbiamo un'opportunità, grazie, penso a questo libro, quello di vedere come era anche il mondo qualche anno fa e che per alcuni nelle zone evoluti è un lontano ricordo quasi ancestrale, quasi ormai finito attraverso qualche generazione che non c'è più, da noi ancora questo contatto c'è, quindi la lettura di questo libro potrebbe essere un'opportunità per queste zone siciliane, Calabrese eccetera, di dire bene, queste cose ci sono ancora, la Sicilia è la regione più ricca di presidi d'Italia, i presidi sono, giustamente perché siamo in streaming, i presidi sono i prodotti che Slow Food seleziona fra quelli che raccontano il territorio attraverso una storia di eccellenza, quelle famose tre parole del buono, pulito e giusto, per cui un cibo, un prodotto deve essere organoletticamente eccellente, buono, pulito, rispettare la natura e avere un giusto rapporto con il produttore. Allora noi ne abbiamo tantissimi questi prodotti, la cosa interessante è leggere il libro e fare in modo che in tutte le parole, ma soprattutto in quelle relative proprio al cibo, fare in modo che le possiamo recuperare, un'azione che Slow Food fa più di altre è quella di rendere consapevoli le persone di cose che per molti mesi sono perse, nel nostro caso in Sicilia e in Calabria o anche in zone cosiddette meno evolute abbiamo questo vantaggio, ripeto, di poter riprendere questa consapevolezza di cui c'è un ricordo fresco, diciamolo così, non perso del tutto. Quindi io ti chiederei appunto di, attraverso per esempio la parola etichetta che è stata detta, di riprendere questo tipo di concetto e magari adattarla alla nostra realtà della Sicilia. Ma intanto questo libro con la Sicilia ha un io con la Sicilia, ho una relazione forte perché sono nata qua e perché comunque è un posto in cui ho passato i tre mesi delle vacanze per tanti anni, insomma perfino a quando non ho cominciato a fare vacanze per conto mio, però erano sempre momenti molto molto istruttivi dal punto di vista alimentare e anche che si trasferivano anche là, cioè a Natale arrivavano i pacchi della nonna per esempio no? I pacchi della nonna contenevano l'arancia, i limoni, che ne so, il formaggio, le frascince, dei nebri, eccetera, però in Natale era quel profumo lì, quel profumo dei pacchi che si aprivano, dei mandarini e non delle clementine che oggi i mandarini stanno diventando una specie in via d'estinzione, non so come mai, perché hanno i semi, ecco, hanno questa tragedia che c'hanno i semi, non si sa come fare, c'hanno i semi dentro, bisogna sputarli, niente, non possiamo più farcela quel senso. E anche la lingua, anche il dialetto, che comunque è stato un dialetto che mi ha accompagnato, anche se insomma non venivo incoraggiata a parlarlo, ma obbligata a capirlo, mi ha sempre fatto riflettere, ad esempio su tutti, nella maggior parte dei dialetti meridionali, quando si parla di cibo, la parola cibo in sé non esiste, ed esiste una parola che è spesa, oppure la parola che è mangiare. Allora, sono le azioni collegate al cibo che danno l'idea, quindi il cibo, intanto questa idea che il cibo debba costare poco, per esempio, è nuova. A nessuno è mai venuto in mente dei nostri anziani che il cibo dovesse essere una cosa a basso costo, il cibo era la spesa. E questa cosa qua è magnifica, se proviamo a dirlo oggi a chi continua a dirci, no, ma bisogna mettere sugli OGM perché così il cibo costerà di meno. E ci accorgiamo che culturalmente questa non è un'idea radicata, nessuno di noi, dei nostri progenitori, ha pensato mai che il cibo dovesse costare meno. E oppure il cibo era quello che si mangiava. Cibo è una parola molto politica, in qualche modo molto culturale e anche molto nobile, che infatti raramente viene usata dal mercato. Se voi guardate le pubblicità, tendenzialmente la parola cibo non si usa, si usa la parola prodotto, si usano altre cose, però cibo diventa una parola forte, nobile, globale. Cibo è una parola che segna già un discrimine tra chi produce per il mercato e allora produce prodotti, merci e poco altro e chi invece produce per l'alimentazione allora produce cibo. Il grande spartiacque tra i principali due tipi di agricoltura, quella industriale e quella di sostenibilità, di tradizione, è proprio questo. L'agricoltura industriale è orientata al mercato, produce roba da vendere. L'agricoltura sostenibile e di tradizione a mangiare. Ed è una bella differenza. Allora, in questa regione, che ha una serie di vantaggi fisici, cioè il fatto di essere un'isola dal punto di vista della biodiversità è un vantaggio pazzesco, perché le cose vanno via molto meno facilmente, parlo delle specie selvatiche degli animali, degli uccelli, degli insetti. C'è un ecosistema che è difficile di sferdere e anche si differenziano più facilmente, perché in un ambiente piccolo poi gli incroci funzionano meglio, eccetera. Quindi tutti i vantaggi dell'essere isola ovviamente si traducono poi anche in vantaggi qualitativi. Tutti quegli altri che ho rileccato prima sono vantaggi quantitativi, però si traducono in vantaggi qualitativi se ci capiamo su cosa vuol dire qualità, perché altrimenti, di nuovo, se non ci accordiamo sulle parole non andiamo da nessuna parte. Allora, quando poi parliamo di una gastronomia di qualità, capiamo che la biodiversità è fondamentale, capiamo che avere a disposizione per tutto l'anno o per quasi tutto l'anno un numero straordinario di verdure e di frutta è un elemento importante e che chiaramente all'interno di questi alti numeri ci sono anche delle cose che si stanno perdendo. Normalmente perché non sono consone alle richieste del mercato, maturano troppo tardi, sono troppo delicate, non possono viaggiare, il pomodoro c'è la pelle troppo sottile, non si può raccogliere meccanizzando e allora bisogna fare tutta una serie di scelte che portano a fare in modo che si continui a scremare tutta questa punta di diversità per andare verso quello che è il più standardizzato possibile in stagioni prevedibili, che si possa fare in monocultura, eccetera, eccetera. Questa fortunatamente è una regione che poco si adatta alle monoculture, questo è un paese che poco si adatta alle monoculture, che ne dicano i seminatori di Maes friulani, che spero sia in ascolto, ma di Maes OGM ovviamente. Allora, questo paese qua è un paese con piccole parcelle agricole, è un paese molto differenziato dal punto di vista orografico e quindi è un paese che deve ragionare di differenziazioni e deve farsene un banto delle differenziazioni. I nostri presidi, che è vero, quanti sono in Sicilia? 40. Ecco, sono 40, non esiste nessuna regione, un numero così alto e in tutta Italia sono 200, quindi il fatto di averne 40 in Sicilia significa tanto. E' un... è così, no? Come no? No, no, in tutta Italia sono 200. No, sono 400. 400. Comunque sono a 6. La media è di 40 in Sicilia in Calabria. Calabria. La media delle altre regioni è 6-7. Siamo arrivati a 30. Dovrebbero essere molto più bravi di così. Mi sono infilata dove ho il dovere. Io devo parlare di parole e non di numeri. Cancelliamo. No, però voglio dire che da questa cosa qua deve nascere non solo il senso forte della cultura e della gastronomia, ma anche il senso straordinario di un'economia che sta dietro tutta questa cosa qua. Il senso di una voglia che i ragazzi hanno di ritornare ad occuparsi di queste produzioni e che sia miele, che siano arance o che siano formaggi o che siano carciofi comunque funziona e funziona anche economicamente. Crea occupazione oppure crea permanenza sui territori. Allora, in tutto questo ovviamente c'è un problema di farlo capire a chi deve comprarlo, tutto questo mondo che c'è dietro un prodotto. E per farlo capire bisogna, non si può convocare tutte le volte e quindi bisogna arrivare ad un'idea di etichetta che davvero dica delle cose. Perché c'è una sensibilità a fianco della cultura che si sta sgretolando, però c'è una sensibilità che sta crescendo. E ci sono fette di pubblico sempre più ampie, di pubblico sensibile, critico, però che se informato decide poi per la qualità e non per la quantità, che vogliono sapere delle cose in modo da capire perché un prodotto lo trovano solo in certi posti, solo in certe stagioni e solo a certi prezzi. Perché quello è anche un elemento chiave. Allora, fare un'etichetta che è la nostra etichetta narrante che è il progetto della Fondazione Slow Food per la Biodiversità e che arriveremo al Salone del Gusto di ottobre a Torino dal 23 al 27 con tutti i presidi etichettati con questa etichetta narrante. Non è semplice. Non è semplice perché bisogna raccontare molto, dire tutta una serie di dettagli, raccontare una storia, una filiera, che non è solo una storia, una filiera commerciale, ma una storia, una filiera di legame con un territorio e con degli animali o con delle varietà. ma non è semplice nemmeno dal punto di vista normativo perché si rischia qualche volta di andare in collisione con delle leggi, con delle normative che ti dicono no però se tu dici troppo fai concorrenza sleale rispetto a chi non può dire la stessa cosa e fioccano multe se non stai attento a quello che scrivi. Cioè fioccano multe ai produttori che scrivono come raccontano le loro cose. Quindi è un progetto complicatissimo che però sta andando avanti e che ovviamente lascia l'etichetta norma di legge sul prodotto ma ci affianca questo fogliettino di racconto e che premia sostanzialmente i consumatori, i cittadini che prima del cibo hanno un po' di voglia di parole e quindi da lì poi prendono le loro decisioni. Io sono uno di tutti che mi convinceva e non mi convinceva la lettura, il banal sono detto in lì, ma volevo intervenire perché io sono diventato contadino per cui a quasi 50 anni ho deciso di fare un'azienda agricola. Ma cosa sa c'era? No io ancora lavoro nel campo del turismo, faccio l'obbergatore, mi vengono a un mondo normalmente sconosciuto e utilizzo le app per poter studiare. E siccome mi sembrava che l'analisi fosse basata sulla consapevolezza del consumatore, mi sembrava che mancava il passaggio sulla consapevolezza del produttore, solamente nell'ultimo intervento si è accennato sul profitto e sull'economia che potrebbe essere fondamentale per il sviluppo di questo territorio di cottura. Perché se noi non è lui che hanno i giovani principalmente a immaginare che dalla terra si possa fare profitto, che non è una parola, voglio dire, ostocota, è esattamente qualità della vita perché poi anche il benessere deriva dal profitto, lo stare bene, lo garificarsi e così via. Ma incominciamo a conoscere anche la qualità partendo comunque dalla coltivazione della terra. Io per esempio non riesco a trovare persone che possono lavorare la terra. Ragazzi, in questa città, fortemente, diciamo con tradizioni agricole, non c'è l'università, non c'è la favolta di agraria. Io lavoro con i giovani e non mi vergogno a dirlo. Io non ho la possibilità di trovare in questa città un agronomo paesaggista. Agronomo paesaggista non esiste. Sono andato all'ordine degli agronomi, gli ho chiesto e lì ho trovato uno fuori. Allora, che cosa voglio dire? La conseguenza del consumatore sulla qualità del cibo mi va benissimo, ma noi dobbiamo partire da fondamenta. Cioè, noi dobbiamo educare i giovani ad avere modelli di riferimento per lo sviluppo agricolo. Io sto venendo da una conversazione con un mio poitano e mi parlava che a 12 anni suo padre e suo nonno coltivavano la terra e c'erano dei chiari, precisi punti di riferimento in famiglia che sono andati via, via, scomparendo, perché tutti hanno abbandonato la terra. Si parlava di agricoltura intensiva, meno intensiva, di qualità. Io sto cercando di fare un ragionamento su una agricoltura biologica. L'ho fatto in città, non è che l'ho fatto in campagna. Io mi sono preso 4 esteri e mezzo di terreno e sto coltivando. Non mi vado a dire, sto coltivando. E voglio fare una agricoltura di qualità. Voglio educare i giovani ad avvicinarsi alla terra. Perché in realtà è un'azienda che, vi dico da tutti gli effetti, è un'impresa commerciale. E per chi lavora nel campo del turismo, vi posso assicurare che l'agroalimentare è una delle nostre uniche possibilità. Ci sono grossissimi imprenditori dell'agroalimentare siciliano che in realtà il mercato interno, quindi quello locale, non gli interessa in maniera più assoluta perché loro vanno all'estero. Una bottiglia di nostro vino siciliano, ma fra l'altro la lo sa perfettamente, in Giappone che costa 50 euro. Prodotta sorricchiata. Allora voglio dire, se noi non eduiamo i ragazzi all'interno delle nostre famiglie a pensare che la terra, il territorio, la risorsa terreno è esattamente una risorsa economica che può portare qualità, benessere, sviluppo, lavoro, occupazione, noi non creiamo le basi di avere un buon consumatore perché vi posso assicurare che il concetto di dove si è. Quando mi dice tutto, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, solamente in campagna lo puoi capire. E lo capirai esattamente al 100%. Io per esempio la prima cosa che ho fatto è un allevamento di ombrighi, perché il compostaggio io lo faccio, il ciclo esattamente dei fiuto agricolo, io lo percepisco benissimo. Allora non mi vergogno neppure a dire che molte volte vi faccio il giro dei ristoranti, amici o dei panifici per potermi fare dare e mangiare bei ombrighi, ma solo se vivi la campagna prendi la consapevolezza del consumatore e la qualità del prodotto e capisci la differenza tra una fragola buona e una fragola scarsa. Noi dobbiamo creare queste figure, noi dobbiamo all'interno della nostra famiglia parlare della campagna in maniera amicale. La campagna non è una vergogna, io quello che mi sono sentito dire è un ritorno al passato, io dico un passo avanti. Abbiamo ancora una tradizione arcaica, una figura professionale dell'aricoltore che non esiste, l'aricoltura è anche la app, è una contraddizione, tradizione moderna, fettissima e non sto a parlare di attivamenti. È chiaro che forse l'aricoltore preso in sé o l'aricoltore preso in sé ha difficoltà oggi a poter sovrabbiere. Ma nel concetto di biodiversità di cui si parlava e quindi degli ecosistemi esistono anche alcune voci che sono riferite e anche molto legate al mondo del turismo, io per esempio le sto facendo una sergia continua, che possono dare vita ad aziende veramente forti. E io vi posso assicurare, ma loro lo sanno meglio di me, che in Sicilia esattamente ci sono delle aziende interessantissime, c'è un'azienda nella zona di Gigiarle, ci sono vivaisti che hanno costruito alberghi solamente per ospitare i buyer che vengono dal Giappone, che vengono dall'Australia, che vengono dall'America. Noi abbiamo le uniche condizioni pedoclimatiche per far sì che alcuni prodotti sono esattamente nostri. Ecco perché dico, bellissima la qualità del cibo, bellissima la conseguenza del consumatore, conosce e riconosce un'etichetta, ma alla base noi dobbiamo sapere e dobbiamo avere la conseguenza del produttore, noi dobbiamo lavorarle perché altrimenti la qualità non la percepiamo. Allora se noi non capiamo che il biologico, sì ma il sistema è biologico, la piantina è biologica, a quell'azienda ti rivolge, perché io posso comprare la piantina, poi utilizzo un sistema biologico, ma in realtà l'origine non è biologica, è come le api, il miele, sì io posso certificare le api biologiche, ma in realtà cos'è? L'utilizzo del materiale, la scela che deve essere biologica, o il telaio. Ecco ci sono delle nozioni che noi non sappiamo e io lo sinceramente sconoscevo, piano piano ho avuto difficoltà a trovare modelli di riferimento, ecco che cosa voglio dire, poi mi rivolgo alla app, me ne vado su internet, su youtube, poi mi faccio il giro dei paesi, incomincio a conoscere persone anziane e mi racconto la loro esperienza, ecco oggi mancano questi modelli di riferimento, noi ancora siamo una generazione che alla fine, girandoci indietro, forse abbiamo trovato un zio o un parente, ma chi ha 20 anni oggi no, ecco perché non concepisce la ricoltura come sviluppo. Grazie. Probabilmente questa terra sconta quella che lui, sconta quella vicinanza con un periodo in cui il lavoro in agricoltura era associato anche ad una condizione di scarso prestigio sociale e di scarso benessere materiale e quindi arriverà un pochino in ritardo l'ondata di ritorno alla terra e in questo momento il Signore ci protegga gli immigrati, perché se non ci fossero loro non solo qui, ma in tantissime parti d'Italia il nostro Made in Italy lo salutiamo, la fontina in Val d'Aosta la fanno i sì, il vino nelle langhe lo fanno i macedoni, le vigne le curano i macedoni perché non si trova più nessuno che vada a potare, quindi prima di chiedere restrizioni e limitazioni agli ingressi pensiamoci un secondo. però sicuramente questa cosa è partita e non si ferma e in questo momento di necessità di ripartenza e di considerazione di che cos'è la campagna, di cos'è il lavoro agricolo il nord non ha più niente da dire, non ha quasi più niente da dire, non ha più terra le grandi pianure o sono cementificate o sono insperilite dalla chimica, per cui se un giovane oggi vuole ripartire con un'azienda agricola deve venire qui, deve andare in Molise, deve andare negli Appennini, deve andare in Abruzzo, è inutile che vada in Lombardia, in Lombardia se c'è ancora qualche pezzo di terra fertile costa un occhio della testa, è in Franciacorta e ci fanno lo spumante, ma sicuramente non c'è nessuno che vende in questo momento. Oggi bisogna ragionare a livello macro e a livello micro di tutte quelle zone considerate svantaggiate, ci sono anche nelle grandi città i parchi, l'area agricola intorno alle grandi città, Milano compresa per esempio sono zone di ripartenza di aziende agricole, guidate da giovani, giovani in senso lato, nel senso che ormai appunto siamo anche in una società in cui si rimane giovani e quindi possiamo includere nella categoria la maggior parte di voi che sono qua. Però la cosa importante è proprio quella che sta lentamente e quindi succederà dappertutto cambiando anche il senso di questo lavoro, cambiando il senso della parola agricoltura e del mestiere. E forse potremmo chiudere leggendo Zappare, che è l'ultima. Questo libro inizia con agricoltura e finisce con Zappare. E Zappare ve la leggo. Nel bene e nel male il riassunto degli ultimi 50 anni sta tutto in questa parola, o meglio nel tono con cui veniva e viene pronunciata. L'atteggiamento tipico tradizionale, per usare un neologismo coniato in questo stesso libro, che avevamo nei confronti del verbo Zappare qualche decennio fa, rivisto oggi non ci fa onore. Ai ragazzini che non brillavano a scuola, gli insegnanti dicevano ti conviene andare a Zappare. Le madri che volevano spronare i figli a impegnarsi negli studi minacciavano, se no ti mandiamo a Zappare. E queste espressioni avevano un corollario di opzioni che oggi si usano sempre meno e con meno spavalderia. Braccia rubate all'agricoltura, per esempio, non si dice quasi più. All'agricoltura arrivano, sempre più spesso, metti aperte e formate nelle più disparate facoltà universitarie. Oggi chi dopo una laurea, un master, un periodo di esperienza professionale in qualunque altro ambito, dice vado a Zappare, lo dice con un orgoglio e una convinzione lontanissimi dalla rassegnazione con cui lo avrebbe detto, prima o invece degli studi o delle altre esperienze 50 anni fa. Non è cambiata l'idea della fatica. La terra, come si sa, non si è elevata al livello della scrivania, è sempre bassa allo stesso modo e la schiena bisogna piegarla. Ma è cambiata la visione di quella fatica, che non è più considerata un brutto lavoro fisico, ma una summa di saperi e di competenze ad amplissimo spettro. Quelli che servono per occuparsi di cibo, come le scienze gastronomiche ci hanno insegnato e come i contadini di tutto il mondo hanno sempre praticato. applausi No, no, prego, prego. No, per le conclusioni tecniche... Sì, sì, va bene. Io poi devo dare altre conclusioni. No, eh... Non d'alzare che... Io desideravo intanto ringraziare Cinzia per la presentazione del libro. Mi è anche molto piaciuto l'intervento di Angelo perché credo che effettivamente i nostri giovani, i nostri figli, ma anche i nostri studenti hanno bisogno di questo ritorno, conoscere le tradizioni, conoscere effettivamente cosa c'è dietro, cosa si faceva cinquant'anni fa. Quindi conoscere il loro... il passato è importante perché loro possano poi riprendersi il futuro in mano. Cioè, e quindi anche per me che ho anche un vissuto contadino, nel senso che i miei vengono proprio da paesi nei quali si praticava l'agricoltura e quindi questo vissuto, questa tradizione del del conoscere il... la terra in cui tu vivi e farla tua, sentirla tua, è importante che noi la... 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 trasmettiamo ai nostri studenti, ai nostri alunni, ai nostri figli. Noi, io per esempio, sto iniziando nella mia scuola appunto con l'aiuto di Slow Food, con l'ortodidattico, cioè iniziano tutti i ragazzini a veramente conoscere il terreno, intanto circostante, il terreno della scuola, iniziare proprio a piantare queste piantine, vederle crescere, vedere che effettivamente cosa c'è dietro, il lavoro che ci sta dietro a tutto ciò. Quindi vorrei che si riscoprissero le nostre tradizioni, riscoprire quel senso di appartenenza al territorio, che secondo me nel tempo si è perduto e quindi conoscere le tradizioni significa anche dare sviluppo a questa nostra... diciamo sia nella nostra provincia ma anche la nostra Sicilia. Quindi partire dall'agricoltura è importante, è fondamentale perché ci fa rivivere ciò che sono stati anche i nostri... i nostri nonni, i nostri padri eccetera. Quindi dobbiamo partire dall'educazione dei nostri, prima di tutto iniziare dalle scuole, iniziare dalle scuole a dare quelle che sono non solo competenze teoriche ma competenze pratiche, cioè l'andare lì è veramente, come dicevamo un po' di tempo prima, andare a zappare, a impastare le mani, a vedere che la terra è tua, anche se la terra accanto alla scuola, ma è qualcosa che ti appartiene e tu devi fare in modo che possa dare frutto questa terra. Quindi ringrazio tutti ed è veramente stata un'esperienza positiva anche per me che sono diciamo una molto legata a questo termine, a questa terminologia del cibo, della sicurezza alimentare e ci credo veramente tanto. Grazie Cinzia. Grazie a voi. Grazie a tutti. Allora dicevo che tutte le attività slow food di questa, se mi permetti, è stata un'attività della condotta valdevone che ci ospita e finiscono in gloria, se parliamo di cibo, cibosia, però non potevamo comprare il cibo né farcelo fare da un cuoco, se noi entriamo in termini di contraddizione con quello che abbiamo detto fino adesso. E allora alcuni soci, ora vi dirò meglio, mamme di soci slow food, che sono la risorsa più preziosa che abbiamo, hanno preparato per noi delle cose, in particolare la citiamo, come si chiama tua mamma Franco? Mela. Mela. Mela, mamma Mela, ha fatto una peperonata. Siamo ancora in streaming, li facciamo rilevare. Sì, 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 è la pazienza. No, no, chiediamo a quelli da tutte le parti del mondo di fare la stessa cosa. Allora, viva la peperonata, la par... cos'è? Una... la gaconata, la frittata, insomma, è tutto fatto dalla mamma, mamma Mela. Poi, poi abbiamo due presidi slow food, che sono uno delle oliva minuta, e proprio sono l'oliva da menza che troverete sotto, il maiorchino, il maiorchino che è appunto il nostro presidio, formaggio pregiatissimo, addirittura Giuseppe Lirosi, che ringraziamo in diretta nazionale, ci ha fatto arrivare il pane d'alentini, che è buonissimo, uno a forma di chioccio là per giunta, e poi anche ci sono delle giovani leve che si sono scimentate, per cui c'è una torta salata fatta da una giovane socia 25enne, 26enne, insomma, una cosa di questo tipo, che, questo per dire che la tracena... no, la mia figlia, è Laura, che è... no, ma la... mi voglio abbassare l'età, non peraltro, perché ancora è... questo per fare capire come il cibo unisce le generazioni, quindi parliamo delle mamme e delle nipoti, in questo caso, e quindi vi esorto a questo aperitivo, chiamiamolo così, vi sta l'ora, e ringraziamo tutti, speriamo di ringraziare. Grazie a Scaffidi, siamo alla presentazione del suo libro Mangia come parli, ma leggiamo sui social network, ma anche sulla stampa specializzata di questo fenomeno che a volte viene accostato a Slow Food, che è questa crescita esponenziale dell'attenzione su Italy. Qual è la posizione di Slow Food, ma soprattutto è possibile che un'azienda che fattura quasi 500 milioni di Euro possa essere Slow? Ma allora, su Italy c'è un grande equivoco, Italy è un grande riuscito, credo, esperimento di provare a creare un ibrido tra la grande distribuzione e la tutela dei piccoli produttori, quindi una piattaforma di distribuzione che in qualche modo ha saltato anche qualche passaggio e ha fatto in modo di collegare al grande pubblico quelli che erano produttori di piccole quantità. Il grande equivoco riguarda noi, nel senso che noi, Italy non è di Slow Food e non sono i mercati di Slow Food, noi abbiamo con Italy una relazione di consulenza per la selezione e l'individuazione dei produttori e una serie di collaborazioni sulla parte didattica, sulle attività didattiche che Italy svolge, corsi, degustazioni, eccetera. C'è sicuramente un pochino di confusione data anche dalla scelta delle parole, che qualche volta quelle che per noi sono parole di interventi nei saggi o nei convegni diventano poi invece parole di slogan pubblicitari ad opera di questa azienda, che è sicuramente un'azienda di grande successo con una potenza comunicativa molto importante che quindi poi raggiunge un grande pubblico e magari un po' di questa confusione le fa anche gioco. Però appunto la relazione di Slow Food con Italy è quello, Italy non si è mai sognata di essere un'azienda slow, Italy è un'impresa economica che fa capo a un uomo di grandi capacità in termini di business che si chiama Oscar Farinetti e che certamente ha avuto questa grandissima intuizione di fare in fretta e tutto sommato con una grande capacità di espansione e di comunicazione una cosa che non esisteva e cioè uscire dall'ambito dell'idea del supermercato come luogo in cui si trovano soltanto prodotti di una qualità media se non bassa e provare a fare grandi supermercati di prodotti di eccellenza. La cosa su cui bisogna ragionare è i limiti che tutto questo deve avere. Una delle prime pubblicazioni di Oscar Farinetti è proprio dedicata all'idea di limite, al rispetto del limite a vederlo sembrerebbe aver cambiato idea, nel senso che comunque adesso i punti di vendita si moltiplicano e si allontanano sempre di più e quindi anche tutta l'idea di territorio, però ad esempio negli Stati Uniti una buona percentuale di quello che viene venduto è prodotto negli Stati Uniti, poi ci sono alcuni grandi marchi italiani certamente però non è così assoluto il fatto che più lontano vai e meno sostenibile sei. E quindi possiamo concludere con stai sereno slow food. Slow food stai sereno, sì sì. La presentazione del libro di Cinzia Scaffidi Mangia come parli a Messina inaugura le iniziative della condotta Slow Food Valdemone. Il fiduciario Giuseppe Restuccia ci fa un resoconto di questa serata che ha visto una grande partecipazione ma soprattutto un interessantissimo dibattito. Questa serata è stata una serata particolare, intanto avere Cinzia qua a Messina è stato un onore per noi e poi un dibattito particolare che ha intrigato questi agricoltori, insegnanti, dirigenti, è stato un dibattito molto favorevole per quanto riguarda la nuova formazione di questi ragazzi che dobbiamo formare come mangiare il cibo, questa parola cibo. Mi è partito proprio, sono rimasto colpito quando ha parlato dell'ultimo vocabolo che ha messo nel libro, zappare, che mi ricorda una cosa quando diceva ma vai a zappare, mi diceva mio nonno, mi diceva mio nonno, magari. E quindi come zapperemo in Sicilia? La Sicilia è la terra in cui ancora zappare come anche dice Cinzia è possibile, forse nessuno si rende conto come se ci si volesse dare all'agricoltura, darsi all'agricoltura in Lombardia diventa una cosa molto difficile e invece in Sicilia i terreni fertili sono la vera nostra risorsa. Allora l'esortazione è questa, la Sicilia è una terra ricca tutt'oggi e la sua apparente retrogradezza invece deve essere vista come un'opportunità, opportunità di valutare, darsi all'agricoltura nel rispetto però sempre dell'ecologia e quindi l'agricoltura nel rispetto dell'ecologia è il futuro vero della Sicilia. E quindi ringraziando il presidente di Slow Food Sicilia e il fiduciario di Slow Food Valdemone ringraziamo tutti i nostri telespettatori.